Cosa passa nella sua testa quando si allontana? Cos'è che fa scattare il fatto che un uomo possa allontanarsi? Beh, l'unica cosa, la cosa più probabile che passa nella sua testa è che pensa che tu sei sempre disponibile, che tu ci sei, che indipendentemente da come si comporta, con te ha un ascendente, ha un potenziale, perché tu sei innamorata. Questo è il pensiero. Allora bisogna destrutturare questo pensiero. Per intanto, quando si allontana, inizi immediatamente ad andare con altri, non stare lì a perdere tempo. Se allontana, tu vai con altri, fatti vedere in giro con altri, flirta sui social, ma trovati veramente qualcuno di meglio. Ed è meglio che questi altri con cui vai siano, diciamo, persone di valore. Quindi vivilo come motivazione a trovare, a conoscere qualcuno che sia veramente di valore. In modo tale che andrai a destrutturare questo pensiero, magari si pentirà del suo allontanamento. Seguimi su YouTube, canale sempre Massimo Terramasco.